Poche ore fa si è tenuto un consiglio regionale che il grosso degli osservatori della politica calabrese hanno definito un consiglio inutile, un consiglio dove c'erano interrogazioni, richieste, question time ormai datati, superati, pre elezioni, un consiglio regionale che si è presentato stanco, un consiglio regionale che ha dato la dimostrazione plastica di una maggioranza senza bussola, ma di una opposizione assolutamente non galvanizzata dal dato elettorale che ha presentamente sconfitto il quadro politico a guida Oliverio. È il segno che c'è una politica che è stanca, che è il segnale che è venuto dall'opinione pubblica di mettere in discussione il quadro politico tradizionale, ha investito le istituzioni e quindi ha reso quasi impotenti, quasi immobili un'istituzione come quella del consiglio regionale, che è un'istituzione legislativa che dovrebbe dare delle risposte, che dovrebbe dare uno scatto. Noi abbiamo invece intravisto sia nell'opposizione che nella maggioranza il segno di una stanchezza, il segno di uno trascinarsi che potrebbe essere devastante per una regione come quella calabrese. su questo dovrebbero riflettere in queste ore le forze politiche e soprattutto dovrebbero riflettere il Presidente Oliverio che di fronte a un quadro così stanco, così immobile, così depotenziato continua a rinviare, a trascinarsi una vicenda, quella del rimpasto come dell'assestamento del quadro di governo che sembra il segnale pratico che il Presidente della regione non abbia ben capito il quadro politico che si è delineato dopo il voto. Ci auguriamo che nelle prossime ore, nei prossimi giorni questo quadro istituzionale possa riacquisire la consapevolezza necessaria che questa regione, soprattutto nell'istituzione ferma ormai da decenni, non può fermarsi neanche per un minuto.